Tanti auguri a me, tanti auguri a me, oggi è il mio 51esimo compleanno e voglio festeggiarlo in un modo davvero pazzesco per la prima volta nella mia vita andrò a lanciarmi con il paracadute e vai! Mi trovo qui oggi all'aviosuperficie di Fermo dove c'è la scuola di paracadutismo skydivesurrise.com per prenotare mi sono collegato al sito skydivesurrise.com ho scelto il giorno e l'orario disponibile e ho pagato la caparra del 20% siamo appena arrivati ed ora andrò in segreteria per la registrazione sono appena uscito dalla segreteria dove ho fatto la registrazione per fare la registrazione ci vuole un documento di identità in corso di validità ho firmato poi il contratto e pagato il saldo del conto ora andremo a fare un briefing prima del volo finale oggi è il mio compleanno 51 anni auguri grazie mille quale miglior modo di festeggiarlo? sono facendo un lancio tandem eh sì per la prima volta nella mia vita un bel lancio tandem andiamo 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 grazie mille grazie mille We'll see the end, but we'll see it through Vlogging Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world and keep the sky on your mind Vlogging Get on board We're smiling On top of the world Vlogging Get on board We're smiling On top of the world Vlogging On top of the world Ok Gritto così Qui ti mando Che figata sarà Bellissimo Si chiamano la moglie e la figlia? Sildia e Ambra Sildia e Ambra Ci siamo qui Da poco saremo al cuore Ragazzi una figata pazzesca Ve lo consiglio veramente Skydive Sunrise è una garanzia Benissimo ragazzi veramente Veramente lo ha detto lui Grazie Rinaldo Non ci aspettavamo una pubblicità Così bella in diretta Eh vabbè sono vicino al marito e al papà Guarda un po' Sono tornati in famiglia mi dispiace Ve l'ho riportato Non mi siete liberati di me Mi dispiace Grazie per essere venuti con noi Grazie a voi Grazie a voi Alla prossima allora Ciao ragazzi Ciao Ragazzi Questo lancio è stato davvero favoloso Già mi prenderebbe voglia Di risalire e tuffarmi di nuovo Comunque se siete interessati Trovate tutte le informazioni su SkydiveSunrise.com Qui trovate anche un ristorante Bar dove poter mangiare e Rifrescarvi c'è un giardino esterno con L'amaca e anche il biardino per fare una pastitina Con questo spero che questo video Vi sia piaciuto vi rimando per tanto Alla prossima avventura Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti